In campo, solo quando la salute, assoluta priorità, sarà tutelata venendo totalmente garantita, previo l'accesso alla cassa integrazione in deroga, ponendo così l'accento sulla spinosa questione relativa agli stipendi dei tesserati e al taglio dei costi. A margine dell'Assemblea di Serie C tenutasi ieri in conference call, i 60 club del terzo campionato nazionale hanno avanzato a Francesco Ghirelli, precise richieste, frutto di una riflessione collettiva che è sfociata nella condivisione del pensiero di quanto sia difficile di pensare di tornare a giocare in città sconvolte, pur avendo in grande cura le ragioni giuridiche, evidenziata nel contempo tra le misure che permettano la sostenibilità economica, quella dello svincolo dalle fideiussioni per l'iscrizione alla prossima annata agonistica. Il presidente della Lega Pro è stato dunque incaricato di farsi portavoce delle istanze rappresentate ai ministri Spadafora e Gualtieri, ma anche all'AIC, all'AIA che alla FIGC, già sollecitata in tal senso. Riformare il sistema è la chiave per salvaguardare il patrimonio della categoria anche in relazione alla continuità aziendale. Intanto, finché non ci saranno le condizioni sanitarie per tornare sui rettangoli verdi, come da indicazioni del governo, non si tornerà a giocare. Se così fosse, sarà rigorosamente a porte chiuse. L'appuntamento ora è tra il 15 e il 20 aprile per una nuova assemblea, dove si entrerà nel vivo del dibattito per approntare un piano strategico finalizzato a fronteggiare la crisi scatenata dall'emergenza coronavirus.